Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiano Nelle ultime puntate del famigerato programma condotto da Alfonso Signorini abbiamo assistito a scene davvero inaspettate L'arrivo dei nuovi concorrenti ha scosso un po' la tensione che si sentiva fra le mura della casa Tutti i concorrenti sono molto stanchi e sperano di non cadere in giochetti inutili per guadagnare popolarità Cosa che sicuramente non dà alcun fastidio alla coppia formata da Alex e Soleil, sul loro presunto legame platonico circolando svariate versioni, c'è chi afferma che entrambi siano stati colti da un colpo di fulmino, chi afferma invece che Alex stia semplicemente usando Soleil creando il teatrino con la collaborazione della moglie, e chi invece mischia nei presunti losti piani di Alex anche la geffina Soleil Aldo e Mani la nuova coppia del GF VIP 6? Ecco tutto ciò che lo confermerebbe, il tutto ripreso dalle telecamere Ormai siamo abituati a vedere l'evolversi di nuovi legami all'interno della casa, attualmente le coppie che hanno fatto più discutere sono proprio quelle formate da Manuel e Lulu, Gian Maria e Sofia ed ovviamente Alex e Soleil Due concorrenti però hanno creato un legame davvero molto forte sotto gli occhi di tutti, questi sono Aldo e Manila GF VIP 6. Ricordiamo però che entrambi i geffini sono occupati, la dolce metà di ognuno li aspetta al di fuori della casa Secondo alcuni però pare che sia nato del tenero tra i due. Loro stessi però hanno subito chiarito la situazione, soffermandosi sulle loro vite sentimentali nella vita reale Potrebbe interessarti anche, GF VIP 6, Gian Maria senza censura, un figlio con Belen, accusa pesantissima Persino il conduttore televisivo Alfonso Signorini ha deciso di stuzzicare la loro amicizia, cercando di far scoppiare la scintilla dicendo Manila io credo che tra te e Montano ci sia della chimica artistica Molti sono gli sguardi d'intesa certo, ma a differenza delle altre relazioni, tra i due c'è davvero un semplice legame fraterno Gli assurdi tentativi di Alfonso sono quindi stati del tutto vani Desiree ci risano.Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Grazie